L'Europarlamento sta lavorando con gli Stati membri per dare la via libera rapidamente all'utilizzo di 40 dei 50 milioni di euro destinati all'acquisto di attrezzature mediche e di terapia intensiva e dispositivi di protezione personale. Gli Stati membri stanno unendo le forze nell'ambito dell'accordo sugli appalti congiunti per l'acquisto di dispositivi come ventilatori, respiratori e articoli necessari per i test sul coronavirus. In questo modo l'Unione Europea avrà una posizione negoziale più forte sul mercato mondiale. La Commissione ha istituito un programma per raccogliere attrezzature mediche e garantire che le forniture necessarie per combattere il Covid-19 arrivino rapidamente agli Stati membri che hanno una carenza di attrezzature. Al 31 dicembre 2019 erano 52,4 milioni i veicoli circolanti nel nostro paese con un aumento dell'1,4% rispetto al 2018. La crescita percentuale è identica a quella fatta registrare dalle auto o vetture che risultavano 39,5 milioni. Incremento anche per i veicoli commerciali e industriali e le moto. E quanto rende noto l'ACI, sottolineando che per quanto riguarda invece le alimentazioni, l'incremento maggiore è quello dell'ibrido a gasolio, quasi quadruplicato. Seguono elettrico e ibrido a benzina, sebbene si tratti ancora di un mercato di nicchia, con quote che non raggiungono l'1% del totale del parco auto, si registra un incremento di circa il 27% delle auto Euro 6. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel quarto trimestre 2019 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento diminuisce dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e aumenta dello 0,3% nei confronti dello stesso periodo del 2018. Per il secondo trimestre consecutivo si registra un aumento su base annua dei prezzi delle abitazioni dovuto perlopiù a quelli delle abitazioni nuove. Questi andamenti si manifestano in un contesto di rallentamento della crescita dei volumi di compravendita. Rispetto alla media del 2010, nel 2019 i prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 16,6%. In piena emergenza coronavirus, Palsi Energy Company Full Digital di Axpo Italia offre due mesi di energia elettrica e gas alle famiglie italiane, aderendo al progetto di solidarietà digitale del Ministro per l'Innovazione Tecnologica. Per le attivazioni effettuate dal 12 marzo al 3 aprile 2020, Palsi sconterà interamente l'importo della prima bolletta, sia nel caso di forniture complete luce più gas, sia per singole offerte luce o gas. Gli interessati dovranno andare sul sito palsi.it entro il 3 aprile, scegliere l'offerta più adatta alle proprie esigenze e nel momento dell'attivazione inserire il codice SOL digitale. Grazie a tutti.